Tra gli stand più visitati all'ultima edizione di SICA, quello del gruppo Frati occupa un posto di rilievo. Dieci situazioni per un unico filo conduttore, ad esprimere il concetto di comparison. Comparison non è un decorativo, non è una finitura, è un connubio tra materiali a oggi considerati come antagonisti, ma che al contrario possono essere utilizzati in simbiosi. La scelta dei decorativi, delle relative finiture e dei vetri che hanno allestito questa esposizione sono il risultato di uno studio che la Tellering Division del gruppo Frati ha approfondito anche in settori estranei a quelli dell'arredamento. Impossibile sintetizzare in poche parole quello che comparison intende comunicare al pubblico. Si notano situazioni diverse, ma legate tra di loro per scelta cromatica, per armonia ed eleganza, che hanno espresso in maniera molto valida la continua tensione verso la ricerca e l'innovazione del gruppo Frati.